24-68, i deputati Colletti ed altri, concernente iniziative ispettive in relazione a dichiarazioni di due giudici popolari circa il processo svoltosi presso la Corte di Assise di Chieti sulla discarica di bussi. Le interrogazioni, vertendo sullo stesso argomento, verranno svolte congiuntamente. Il Sottosegretario per la Giustizia, Gennaro Migliore, ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie, signor Presidente. Gli aspetti ispettivi, gli atti ispettivi prendono le mosse da articolo di stampa che rivelano le confidenze di alcuni giudici popolari circa le presunte pressioni subite da parte del Presidente della Corte di Assise di Chieti, dinanzi alla quale si era svolto il processo in primo grado per la vicenda relativa alla discarica di bussi. In particolare, i due giudici popolari hanno dichiarato di non essere stati sereni nella fase di deliberazione della sentenza, di non aver letto gli atti del processo, che si erano rifatti alle slide viste in udienza e alle parole sentite in aula. Questa è una citazione delle persone citate e che non si riconoscevano nelle motivazioni poste a fondamento della decisione. Hanno altresì riferito che, poco prima dell'udienza di discussione, vi era una cena tra giudici togati e popolari, nel corso della quale il Presidente del Collegio, il Dottor Camillo Romandini avrebbe lasciato intendere ai giudici popolari orientati ad una decisione di condanna che, ove fosse stato riconosciuto il dolo e la sentenza fosse stata ribaltata nei successivi gradi di giudizio, avrebbero corso il rischio di dover risarcire gli imputati, in caso di azione di danni a carico dei giudici. Su tali premesse, gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere le iniziative adottate dal Ministero in merito alla vicenda de qua. Orbene, il processo in parola, iscritto al numero 213 RGCA, in cui venivano contestati all'organo requirente i delitti di avvelenamento di acque e di disastro ambientale a carico di numerosi amministratori...